Ti salutano, ti ringraziano di essere con noi, soprattutto ti ringrazio di essere con me in questo pomeriggio. Grazie mille anche a Jessica, a Francesco, a Laura, a Margherita, a Michela, a Nicolas e anche a Paola che sta studiando ma ci sta ascoltando. Brava Paola, brava, brava, brava. Allora, è il momento della classifica di iTunes, le 15.56, siamo in perfetto orario, quindi andiamo a vedere la classifica dei 20 brani più scaricati, più downloadati, più acquistati in questo momento. Partiamo dalla posizione numero 20 come sempre per poi salire a vedere chi c'è in vetta. Justin Timberlake con Mirrors che abbiamo ascoltato come primo power hit della giornata è in fondo alla top 20. Mentre alla numero 19 ci ascoltiamo il terzo single estratto dall'ultimo album di Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di gel, leggeva William Blake vicino a una finestra. Lui beveva caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una dea, non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriole, lei vestita come la Roger, pulmini e sai e te lassù nel cielo blu il loro nome, argento fra le stelle. Lui beveva caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensò è una stella, pensò è una stella, pensò è una stella. Come una stella, pensò è una stella. Ben tornato Niccolò che in questi giorni era con la febbre ma fortunatamente è guarito. Quindi a nome mio e a nome di tutto lo SAF, ben tornato Niccolò. Allora, torniamo alla classifica di iTunes. C'è Chris Malinciac alla posizione numero 18 con questa bella, rilassante, so good to me. Ciao a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. A numero 17 invece troviamo Imani con You Will Never Know, alla numero 15, no, devo correggermi, alla numero 17 Chris Malinciak, alla numero 16 Imani con You Will Never Know e alla numero 15 Moreno con Che Confusione. Mentre la numero 14 troviamo Marco Mengoni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.